È ormai ricollata la stagione degli stabilimenti balneari. L'aumento di presenza attento agli operatori con l'inizio di luglio si è confermato complice il meteo favorevole e una situazione sanitaria per il momento sotto controllo. L'unica nota sonata è la capienza ridotta a causa del distanziamento tra gli ombrelloni previsto dalla normativa. Nei primi giorni dell'estate si era detto che si poteva anche modificare le distanze fra le postazioni e questo poi non è successo perché in realtà poi quando si parte in un modo è giusto anche nei confronti dei clienti poi in quel modo si va avanti e quindi i 10 metri quadri ombrelloni sono rimasti tali il metro fra lettino e lettino e quello e quindi purtroppo un terzo di postazioni sono sparite. Ad Appallo lettini praticamente sold out con i clienti stagionali e i mensili. Gli occasionali trovano poco spazio e anche per il mese di agosto c'è già tutto prenotato. In agosto è sold out, anzi c'è una sorta di lista d'attesa ma come era prevedibile. Noi abbiamo clienti che vengono da tantissimi anni con i quali abbiamo un ottimo rapporto e alcuni dei quali ci danno la disponibilità del loro spazio quando loro non ci sono e allora con quel sistema riusciamo ad avere un pochettino più di mobilità però ecco, non è che non ci salva è un po' come ripeto un pochettino di mobilità ce la dà. Fino a quando sperate di riuscire a lavorare questa stagione? Di noi finché il tempo ce lo permetterà e finché la stagione prosegue proseguiremo a dare servizio sperando sempre che se sentiamo questa cosa in l'aria che ad ottobre potrebbe ritornare il discorso dei contagi. Noi ci auguriamo di no finché potremo daremo servizio. Grazie a tutti.